C'era l'iniziativa? Sono convinta che all'interno della scuola porteremo avanti questo tema anche visto che stiamo programmando di fare un giornalismo scolastico, all'interno del giornale è un valore da informare gli studenti un po' più meglio rispetto all'interno della scuola, rispetto ai temi che abbiamo affrontato oggi in questa conferenza. Sono contenta che abbiano scelto noi come scuola per continuare questo percorso che abbiamo fatto nello scorso anno in assemblea e spero che ai ragazzi sia rimasto qualcosa di questa esperienza e che riescano a portarlo e a fare tesoro dei consigli. Tesoro dei consigli, che è? Spero che i ragazzi, i relatori di oggi, ci hanno dato per guardare e osservare il nostro territorio e provare a fare delle inchieste noi anche se non siamo giornalisti che poi se ne possono occupare. Oggi l'associazione della sud... Aspetta un attimo... No, no, no. Aspetta un attimo... Grazie a tutti.